La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Non è mai possibile che questa città non ti fanno in mente niente a raccontare. Ed era bellissima. Un gigante! Insomma, schizzi, a dire che cosa hai visto? A dire una cosa raccontata? Sì! E di mail! A dire una cosa raccontata è forte. Ricorda. A dire una cosa raccontata. Sì! Allora, un pubblico.